Sergio Staino all'indomani del terribile attentato della strage di Charlie Edouard per un uomo che fa satria da sempre come lei, che cosa significa questa giornata? Beh, personalmente è un momento di dolore enorme perché conoscevo la maggioranza dei caduti e in particolare Volinsky con cui c'era legato da un'amicizia fraterna oltratrentennale. La cosa che colpisce è che ancora una volta a questi si fanno forti, questi criminali che si chiamano Al-Qaeda o che si chiamano ISIS, si fanno forti di assalti a delle cose che sono poi degli ambulatori, degli uffici di Croce Rossa. Dov'è la bravura, la forza? Cosa possono vantarsi per aver assaltato una piccola redazione di un giornale piccolo come quello nel centro di Parigi? La voglia di colpire l'intelligenza è l'unica risposta, la voglia di colpire la laicità dello Stato, di colpire la democrazia e a maggior ragione la nostra risposta deve essere una risposta molto alta, molto civile, molto illuminata, volterriana, vorrei dire come ci insegna la Francia. Una sua concittadina Oriana Fallaci diceva che sono di fronte ad uno scontro di civiltà, lei è d'accordo? No, assolutamente, credo anzi sia l'interpretazione più deleteria che si possa fare, quindi non ci sono scontri della civiltà, la civiltà è un'unica sola, è la civiltà che pone la persona e i suoi diritti al centro dell'operare e anche nel mondo islamico esiste queste forze, non solo nel mondo cristiano, occidentale, ateo e così via, bisogna rafforzare il rapporto con tutta la parte migliore dell'Islam, con il lavoro di incontro, di collaborazione, devono essere loro, è un po' quello che è successo con le brigate rosse da noi, fino a che non furono la stessa classe superaia, la stessa sinistra a espellere dal suo seno questi banditi, non saremmo venuti a capo di noi. Nelle pieghe dello sdegno generale, generalizzato, si fa strada qualche pensiero strano, tipo la satira non può essere così offensiva, in fondo loro hanno offeso una religione, ecco lei che cosa risponde? Non esiste, è un problema veramente che non esiste, la libertà dell'individuo è anche la libertà di espressione e può dire tutto quello che pensa, se uno pensa qualcosa di male su una religione lo dice, lo racconta e noi bisogna, anche se non siamo d'accordo, bisogna difendere il suo diritto. La difesa di questa è la difesa della libertà di stampa, tu cur. C'è una splendida foto nel suo studio, abbiamo parlato di Wulischi, Wulischi, Altan e lei qui nelle colline sopra Firenze, che cosa le ricorda questa foto? Era il 91, stavo girando Non chiamarmi Omar, era il film in cui scritto insieme a Altan, quindi c'abbiamo lo sceneggiatore, io il regista e lui uno dei protagonisti. Lui è stato un grande maestro della satira europea e ha avuto molta influenza anche in Italia. Emilio Giannelli, siamo a commentare i fatti gravissimi avvenuti oggi a Parigi, che scuotono tutto il mondo della satira, quali sono le sue parole, le sue valutazioni? Ma questo fatto è veramente un fatto inaudito e terrificante, mai si sarebbe potuto immaginare che fosse compiuta una strage come quella che è stata fatta ieri a Parigi. Si rimane veramente senza parole di fronte a una cosa del genere. Quello che si può dire per quanto riguarda la satira e le vignette è che a mio giudizio questo atto non ci deve far impaurire. Bisogna continuare a svolgere il nostro ruolo perché la satira svolge un ruolo importante nella politica, perché è la voce della libertà, la voce della contrapposizione e della critica. È il sale della politica e della satira non si può quindi fare a meno. Questo atto è un atto altamente intimidatorio, ma se noi ci facessimo turbare da questo faremmo il gioco dei terroristi che hanno ucciso queste persone in Francia. E quindi a mio giudizio occorre esprimere la massima solidarietà a chi tutti i giorni lotta per la libertà di espressione e non deflettere mai dalla critica e dalla consapevolezza del ruolo che svolge la satira. Grazie a tutti. Grazie a tutti.